Buongiorno a tutti, sono Guido Amendola, da gennaio dell'anno scorso ho preso la responsabilità degli acquisti di BNL e dopo un percorso di 15 anni sempre nel mondo degli acquisti attraversando 4 industrie ho avuto la possibilità di vederne di ogni in termini di organizzazione e una prima conclusione secondo me a cui possiamo arrivare, scusate mi alzo non per mani di protagonismo perché se no non vedo, è che di fatto non esistono secondo me organizzazioni giuste o sbagliate ma quello che si può osservare anche facendo tesoro di quello che abbiamo sentito dai risultati della survey e dalla vita vissuta, diciamo che qui ho raccolto un po' di esempi, la conferma è che sicuramente il CPO ha mediamente raggiunto un livello di standing in un'organizzazione con un riporto tipicamente al direttore operation o a seconda delle dimensioni anche direttamente al CEO, in alcuni casi secondo me un po' più rari è invece il riporto al CFO e questo secondo me testimonia anche il fatto che originalmente la veste un po' più amministrativa di chi faceva acquisti lo vedeva collocato nel mondo diciamo amministrazione e controllo, perdendo via via questo tipo di connotazione ecco che magicamente ci si è spostati in termini organizzativi più nella parte delle linee di business. Un altro dato abbastanza ricorrente secondo me è l'organizzazione vado nella parte bassa di questi esempi, dell'organizzazione comunque quasi sempre più focalizzata sul mondo delle merciologie, quindi si è un po' persa la connotazione del compro per la direzione ma compro qualcosa che è un altro secondo me dei trend abbastanza consolidati. Come dicevo non ci sono organizzazioni giuste o sbagliate probabilmente ci sono organizzazioni più o meno efficaci e in questa prima parte della mia presentazione fondamentalmente ho raccolto un po' di riflessioni. I driver decisionali che spingono a definire l'organizzazione tipicamente sono l'andamento dell'azienda, un'azienda in espansione, un'azienda in recessione incide l'andamento dell'azienda sul come penso di organizzare la mia funzione acquisti. L'approccio predominante sul mercato, anche noi siamo nel tempo stati molto oggetto di mode, approccio decentrato, approccio accentrato, un mix dei due, ultimamente c'è secondo me anche sta ritornando un po' la moda dell'outsourcing degli acquisti con secondo me alterne successi. Ci può essere un obiettivo specifico del management, nel senso che io tanti anni fa, quindi il tarlo è iniziato, mi sono laureato in economia con una tesi sull'evoluzione organizzativa della direzione acquisti di Omnitel pronto Italia, che aveva proprio cambiato il focus dal devo fare la rete al devo vendere i servizi e aveva completamente cambiato l'espertise dei buyer e delle persone e anche l'organizzazione, perché il focus era completamente cambiato. E poi ovviamente particolarmente i normativi o regolamentari, io da un anno e mezzo che vivo nel mondo delle banche, questa cosa è molto sentita perché Banca d'Italia genera giustamente, e poi ne stiamo sentendo anche di recente di ogni, genera una serie di normative che hanno quasi sempre anche impatto nella prassi quotidiana della direzione acquisti, ma qui secondo me una riflessione di fondo invece è quanto nel tempo all'interno degli acquisti è aumentato il focus sul rischio fornitori, che era una di quelle cose che tipicamente veniva demandata a altre funzioni di intelligence dell'azienda, invece la parte rischio fornitori è diventata secondo me estremamente importante oggi per noi, perché come dico sempre più che quello che ha fatto un fornitore ormai dobbiamo capire quello che può fare un fornitore. Le premesse quindi per valutare un'organizzazione in ambito acquisti io le ho sintetizzate in questi cinque punti, cioè torniamo sul tema risorse, non a caso è stata una fortuna ma è il primo punto, risorse quasi sempre finite, il mondo degli acquisti è complicato come dire gestire aumenti diciamo di organici come in tante altre situazioni ma negli acquisti ancora di più e spesso sature, sature però e poi questo sarà un elemento di riflessione che porterò più avanti, sature però spesso nel fare cose non a valore, secondo me è chiaramente il mondo che conosco meglio però negli acquisti la prassi è molto forte, ho sempre fatto così, ha sempre funzionato e spesso il valore aggiunto che viene portato non è altissimo e grazie anche alle tecnologie che oggi abbiamo in termini anche di strumenti, secondo me il focus delle risorse e gli acquisti può essere molto più forte su attività a valore. Variabilità dei volumi di acquisto, secondo me non so quali industrie oggi riescono ad avere sotto controllo, sotto pieno controllo i volumi di acquisto e quindi il backlog sul quale è l'organizzazione dei lavorare e quindi questo è un punto di attenzione. Nel tempo c'è la variabilità delle specifiche del prodotto servizio, l'anno scorso ho comprato una certa cosa, un certo servizio, non è detto che quest'anno quella stessa attività o quello stesso bene possa soddisfare le mutate esigenze del business. Le condizioni di mercato, stessa questione, il mercato si muove molto più velocemente di qualche anno fa e riuscire a essere sempre al passo con il mercato esterno e soprattutto con il mercato di riferimento nel quale ci si muove è un altro punto di attenzione. Infine il livello di disposizione verso il top management o verso il mercato, approccio proattivo e di grande visibilità o cerco di gestire le mie attività cercando di defilarmi dall'avere troppa visibilità e caso mai anche verso il mercato ho un approccio non così aggressivo. La somma di tutto questo, ovviamente l'ambizione di fondo di tutti noi è quella di spostarsi, questa è una slide abbastanza ricorrente, ma è importante perché secondo me ci si sposta, sta cambiando come dicevamo prima il profilo del CPO e quindi degli acquisti verso un mondo di procurement strategico che vuol dire leva competitiva per il business, però io ho un grosso dubbio di fondo che secondo me è un percorso, nel senso che ho visto sempre un po' nella storia forzatamente portare gli acquisti a un livello molto alto con dentro però risorse che non avevano come dire l'expertise di base e quindi secondo me questo può essere un grosso boomerang perché per riuscire ad avere conoscenza approfondita del mercato bisogna averlo vissuto in tutte le sue sfaccettature e non come una scienza calata dall'alto. Sicuramente il posizionamento e in BNL in controtendenza con quanto diceva Berlinghieri, BNL fortunatamente un anno fa ha deciso di investire e cambiare il CPO e prenderlo dal mercato e quindi non è detto che non si investa negli acquisti anche nelle banche. Dicevo ovviamente la volontà di BNL è stata quella di reinvestire e portare negli acquisti prendendo una persona che veniva da un'industria completamente diversa, la mia penultima esperienza nel mondo delle telco, l'idea era quella di portare un modo di pensare e di pensare agli acquisti che creasse un momento di discontinuità. Una possibile risposta a tutto questo è, forse prima lo citava sempre la dottoressa Berlinghieri, io mettendo insieme un po' tutte le esperienze soprattutto avendo ben chiaro gli insuccessi, le cose che non hanno funzionato nelle precedenti esperienze, arrivato in BNL abbiamo riorganizzato gli acquisti, ma più che l'organizzazione degli acquisti, la filosofia del lavoro negli acquisti basandoci, cioè implementando in maniera molto molto massiva i concetti di project management, quindi fondamentalmente questo perché? Perché una risposta possibile a tutte quelle criticità che elencavo prima, quindi per assicurare flessibilità e adattabilità ai cambi di strategia e di focus, prima ne ho sentito parlare che è un altro degli elementi, cambia il focus del business, cambia il focus dell'amministratore delegato, cambia il focus della capogruppo, molti di noi immagino subiscano giornalmente o mensilmente una capogruppo che cambia l'orientamento, ecco avere un'organizzazione, un modo di lavorare che può soprattutto accettare accelerazioni e rallentamenti senza non a danno delle persone, infatti garantendo anche una crescita professionale, una possibilità è quella di organizzare il day by day per progetto, per fare questo diciamo un unico ed enorme macro requisito è quello di crescere o far crescere l'affidabilità della pianificazione di quello che a un tempo si chiamava budget acquisti, adesso chiamiamo master plan acquisti ma fondamentalmente la definizione di quelli che sono un piano temporizzato e strutturato dei fabbisogni della nostra azienda, suddiviso per progetti di sourcing che viene discusso in fase iniziale nell'ambito del processo di budget e questo secondo me probabilmente in molti casi è stato un vero enhancement del CPO e delle persone, cioè essere parte attiva del processo di budget e non aspettare la fine del budget per poi come dire ricevere un mandato a negoziare o a migliorare determinati aspetti del budget e noi poi con una metodologia abbastanza rigorosa e a strettissimo come dire contatto con la nostra direzione finance nel tempo su base trimestrale rivediamo questa pianificazione. Fondamentalmente i passi, i step diciamo formali che noi eseguiamo e che ovviamente partendo da quella che è la spesa totale eliminando diciamo quelli che sono le componenti che o per definizione non sono in ambito acquisti o perché l'azienda sceglie, questi sono esempi che non siano in ambito acquisti viene definito un perimetro complessivo, questo perimetro complessivo che è procurable viene ulteriormente diciamo ridotto o rivisitato laddove ci dovessero essere anche lì delle situazioni particolari che tendono a spingere una scelta di gestione in autonomia, può essere anche un livello di soglia, ci sono poi vari driver che possono determinare un'ulteriore riduzione del perimetro acquisti, qui nel perimetro procurable, si arriva a quella che viene definita spesa presidiata o addressable baseline. questa addressable baseline fondamentalmente per la componente diciamo in focus nell'anno che quindi va a, viene poi dettagliata per progetti, diciamo costituisce il master plan, esiste ovviamente una componente di spesa non negoziata nell'anno perché frutto di accordi pluriennali e questo anche diciamo è abbastanza fisiologico. Come dicevo prima fondamentalmente noi per cliente gestiamo una diciamo un master plan acquisti che viene fortemente diciamo caratterizzato dalla famiglia merciologica predominante perché ci potrebbero essere anche in alcuni casi più famiglie merciologiche, vengono definiti dei singoli progetti a livello di famiglia merciologica e questi gestiti, ogni progetto a prescindere dalla soglia viene gestito in maniera abbastanza rigorosa con i classici step che vanno dall'analisi della domanda, l'analisi dei fornitori, la parte vera e propria di sourcing e la parte di contrattualizzazione. Dicevo a prescindere dalla soglia perché questo modello in quest'anno ci ha permesso di prendere in carico anche per esempio delle attività che erano gestite in maniera decentrata per soglie economiche diciamo abbastanza basse da un gruppo di persone assolutamente disottimizzato e il passaggio dal diciamo l'inclusione di questo perimetro in termini di FTE ha portato praticamente a un dimezzamento, quindi siamo passati da 4 FTE a 2 FTE con questo modello, quindi il concetto del day by day, quindi ogni giorno qualcuno mi chiede di fare, qui io mediamente oggi noi abbiamo una percentuale di rivisitazione su base annua, parlando di dati 2013, del 30% del totale master plan, quindi vuol dire che per il 70% dei nostri progetti quello che era stato definito è stato fatto, ovviamente può cambiare l'accezione, cambia la baseline invece di un milione diventa lo 6, questo chiaramente è vita come dire normale, però diciamo questo progetto, questo modo di lavorare sicuramente aiuta, prima parlavo ovviamente di merciologie perché fondamentalmente noi siamo organizzati con tre grossi team, cioè tre team, un team di lead buyer è assolutamente focalizzato sul mondo per famiglia merciologica, torniamo a quello che dicevamo prima, questo è un ruolo che oggi fondamentalmente è un account, cioè è una persona che vive l'azienda, vive i clienti interni per raccogliere fabbisogni in maniera strutturata e per alimentare, uno dei suoi principali focus è quello di alimentare il master plan, quindi è come un account che deve alimentare il suo backlog di ordini. C'è un pool di buyer, qui c'è un errore in azzurro, pool di buyer, un copia e incolla, che nell'arco dei processi che prima vi ho fatto vedere fondamentalmente si occupa della parte di analisi della domanda, la parte di analisi di mercato, quindi soprattutto per la parte di strategia di sourcing viene fatta insieme con il lead buyer e poi la vera attività di sourcing, quindi la gestione della gara, che invece viene fatta fondamentalmente dal buyer con una potenziale coda di intervento dell'e-buyer a seconda delle merciologie e della strategicità della tipologia di negoziazione. Se ne interrompo, quindi voi avete definito dei ruoli veri di project management all'interno dell'organizzazione degli acquisti, project management degli acquisti su aree merciologiche diciamo che abbiamo imprevedato la filosofia del project management, quindi io non ho un project management, però sì, nel senso che nel processo standard, che ripeto noi oggi gestiamo circa 300 progetti all'anno, di varia dimensione, merciologia, quindi dal mondo immobiliare al mondo IT, al mondo comunicazione, c'è tutto, seguiamo questa, quindi fondamentalmente leggetelo anche come una sorta di work in progress, quando finisce l'attività dell'e-buyer c'è, parlando di, come dire, utilizzando termini più industriali, c'è un versamento del semilavorato per il buyer, quindi fondamentalmente… Visto che purtroppo l'ho interrotta il mio ruolo, la mia parte antipatica, il mio ruolo mi dice che siamo sforando i tempi, quindi bisogna accelerare. Sì, l'ultimo team è quello di supporto di sviluppo che fondamentalmente aiuta soprattutto nelle attività di contracting e di analisi del rischio fornitori, che sono le due attività più… qui io, diciamo, l'altro aspetto che sottolineo e poi finisco è che grazie ovviamente al fatto che si lavora con un piano temporizzato, ci permette fondamentalmente a inizio anno e durante l'anno banalmente ad avere, a sapere, diciamo, balisticamente dall'inizio e sempre meno balisticamente dopo, qual è il risultato in termini di performance e gli acquisti, per mensilizzato lo facciamo sul singolo buyer, lo possiamo fare sul singolo lead buyer, che ovviamente ha una vista per attività di merceologica. E soprattutto, l'ultimo, riusciamo a gestire la performance del buyer anche… perché una delle domande che subito nasce… parlando di progetti, i progetti sono diversi, potresti avere un buyer estremamente saturo perché gestisce due progetti estremamente importanti e casomai altri che ne gestiscono. Noi, nell'ambito di questo processo abbastanza rigoroso, definiamo a priori la tipologia di progetto con un effort associato che può variare e possiamo avere alla fine questi casi, cioè puoi avere un caso di un buyer che è estremamente spostato verso i progetti rossi, che ovviamente sono quelli più critici. L'optimum sarebbe ovviamente un effort su base annua del singolo buyer che è baricentrato tra il… diciamo un po' più… noi tendiamo a gestire il capacity dei buyer all'interno della fascia gialla. grazie. se siete d'accordo lascerei alla fine i commenti che così raccogliamo le esperienze di tutte e tre le aree. Adesso parliamo di azienda rete, quindi immagino io ho un tema che qui vedo come secondo e trovo molto interessante che è quello della governance e dell'organizzazione della network enterprise. Sì esatto, è il tema di cui vorrei parlare oggi, ossia del ruolo del procurement all'interno della new economy chiamata appunto oggi network economy, di come il CPO possa partecipare, contribuire ai margini dell'azienda e di come il network possa essere utile in quest'ottica. La parola chiave è collaboration ed è proprio il cuore del concetto del network. Posso chiedere di riuscire a comprimere i vostri prossimi interventi in una decina di minuti così magari lasciamo spazio un pochino, ciascuno voglio dire, grazie. Quindi partendo dal concetto che all'interno delle global 2000 company a livello mondiale oggi vengono bruciati annualmente circa 650 miliardi di dollari per inefficienze diciamo nella relazione commerciale, sostanzialmente diciamo che ancora oggi l'80% delle transazioni commerciali è comunque completato in maniera manuale, cioè l'elemento manuale, la mancanza di automazione è ancora un elemento estremamente importante nelle relazioni commerciali ed è qui dove interviene sostanzialmente il network e dove il ruolo del CPO può essere estremamente importante perché è quello di poter incrementare la collaborazione, l'integrazione e l'automazione con i propri fornitori in tutto il ciclo cosiddetto source to pay, il ciclo completo degli acquisti dal momento della supplier discovery fino poi all'assicurazione che il pagamento effettuato sia in linea con i saving che lui stesso ha negoziato e qui cominciamo ad anticipare il concetto delle dispersioni dei leakage contrattuali. business network, il concetto del business network diciamo in Europa è ancora meno sviluppato che negli Stati Uniti come a livello concettuale ma pensando a come oggi l'informazione possa viaggiare velocemente, a quanto velocemente posso condividere informazioni e dati con costi prossimi allo zero ecco che già diventa più chiaro forse il ruolo del network. Il network da questo punto di vista già a metà degli anni 90 negli Stati Uniti era stato paragonato alle autostrade e alle reti elettriche dell'era industriale. ovviamente in questo senso maggiore è la scala del network e del business network che si utilizza maggiori sono le efficienze e i vantaggi che si riescono ad ottenere. Applicato al procurement parliamo quindi di supplier discovery facilitata perché io ho possibilità di condividere informazioni con altri miei pari quindi capire, parlare, discutere di fornitori, di best practice, individuare facilmente, accedere facilmente a, nel caso della riba network, che ha oggi oltre un milione e mezzo di fornitori nel mondo, il target è 2 milioni di fornitori entro fine di quest'anno, parliamo di un transato che a fine 2013 era di oltre 600 miliardi di dollari che, giusto per darvi un'idea, equivale a tre volte il transato di eBay e Amazon messi insieme. la possibilità di collaborare sull'order to cash e quindi anche di finanziare i propri fornitori, quindi parliamo anche di supply chain finance e non solo, parliamo di vantaggi anche per il CFO nel miglioramento del DPO, di guadagni derivanti da pagamenti anticipati e poi parliamo ovviamente anche di vantaggi per i fornitori che si trovano ad essere più competitivi dei propri concorrenti perché? Perché intanto gestiscono elettronicamente ed automaticamente gli ordini che ricevono, quindi a costo inferiore, si trovano sul network e quindi sono immediatamente in grado di transare elettronicamente con altri buyer e quindi sono preferiti dai buyer per questo, eccetera, eccetera. I vantaggi invece per le aziende buyer li riassumiamo qua, cioè parliamo di saving significativi nella gestione, parliamo di saving massivi nella gestione del fornitore, parliamo di riduzioni dell'85%, il costo di gestione del fornitore più o meno è calcolato in 1000 dollari a fornitore, quindi poco più di 900 euro a fornitore, quindi per 1000 fornitori parliamo di 850.000 euro di riduzione di costi della gestione del fornitore, parliamo di riduzioni di prezzi unitari, e dopo dopo vediamo perché, parliamo di improvement sostanziale nella compliance, incremento di efficienza nei processi estremamente significativo e poi quello che abbiamo detto prima nella gestione del working capital. Vedete sulla sinistra in basso c'è una definizione di McKinsey sostanzialmente che individua, identifica il fatto che nel 65% delle aziende leader queste sono connesse ad un network, mentre è molto più raro nelle aziende che non sono leader essere connesse ad un network. I vantaggi del fornitore li abbiamo visti prima, quindi andiamo più velocemente. Il sourcing, come viene migliorato lo strategic sourcing attraverso un network? Viene migliorato da maggior competitività che posso mettere nella comparazione dei miei fornitori, perché posso accedere velocemente a più fornitori, più fornitori qualificati, comprendere il rischio associato in maniera migliore, il rischio associato ad ogni fornitore, e qui i saving sono definiti da Aberdeen tra il 2 e il 14%, che rapportato al billion sono dai 20 ai 140 milioni. Supplier management l'abbiamo già accenato prima, quindi parliamo di 850 euro di saving a fornitori. E questo invece è il tema dei leakage, delle dispersioni. Cioè ogni 21 milioni di spesa indirizzata per billion, scusate, ogni billion possiamo ottenere circa 21 milioni, quindi parliamo del 2,1% di saving, eliminando, o meglio, indirizzando la user compliance e la supplier compliance. Quindi eliminando, riducendo al minimo il Maverick spending ed evitando sia gli overpayment per i fornitori, sia i cosiddetti price leakage, ossia pagamenti non corretti dal punto di vista della negoziazione fatta, quindi del contratto all'origine. Qui parliamo invece di allineamento, di sincronizzazione, tra il P2P, i processi di procure to pay, e lo strategic sourcing, quindi le negoziazioni fatte dall'ufficio acquisti e poi l'effettiva attuazione di quanto negoziato. Qui Hackett ci dice che l'opportunità a livello aziendale sta intorno al 4,4%, quindi di nuovo se lo rapportiamo al billion parliamo di circa 44 milioni ogni billion. Poi abbiamo miglioramenti di processo, perché evidentemente la grande maggioranza delle righe d'ordine, così come quelle delle righe di fattura, sono automaticamente matchate con contratti, con cataloghi, con master agreement, per cui il processo è altamente automatizzato, quindi error free per definizione, e ovviamente anche molto più rapido. Altro elemento importante è il tactical sourcing, si accennava anche prima all'argomento del tactical sourcing, per Hackett il 43% della spesa indiretta di un'azienda è ancora tactical sourcing, ed è quello più difficile da indirizzare, perché parliamo dei piccoli acquisti sotto certe soglie, parliamo degli acquisti urgenti, parliamo degli acquisti dello spot buy, con il network, gli strumenti connessi al network, e la facilità di collaborazione che si ha con i propri fornitori, è possibile indirizzare anche questo aspetto, portandosi a casa dal 2 al 5% di saving, quindi di nuovo rapportato al billion dai 20 ai 50. E poi, una volta che il processo del source to pay è completamente automatizzato ed integrato con i fornitori, e si riesce ad avere fatture approvate, quindi da quando vengono create a quando vengono approvate, in media in 6 giorni, ecco che si avrà un mondo nuovo anche per il finance, che a questo punto può negoziare pagamenti anticipati a fronte di sconti, con il doppio vantaggio di guadagnare sul proprio denaro, ma allo stesso tempo finanziare la propria supply chain. Giusto per ricapitolare, vediamo, intanto il 2006, speriamo che sia di buon auspicio, spend compliance, parliamo quindi di 21 milioni abbiamo detto, price reduction dal 4 al 19% complessivamente, quindi 40-190 milioni, supplier management 850 mila euro su mille fornitori, e poi process improvement circa un milione ogni miliardo, e cash management dai 6 agli 8 milioni. Grazie, numeri sicuramente che interessano, magari commenteremo dopo, ora chiedo al dottor Amendola invece di toccare un altro tema, certamente vicino all'organizzazione, chiedo scusa, chiedo scusa, 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 dottor Donatelli di Unicredit, di parlare un altro tema molto legato all'aspetto organizzativo, che è la standardizzazione, quindi ci racconterà appunto l'esperienza Unicredit. Buongiorno a tutti, sono Francesco Donatelli, seguo il procurement per il gruppo Unicredit, ringrazio Business International dell'invito, e se mi metti live, perfetto, la presentazione è ancora meglio. Prima di passare al procurement, nell'aprile 2011, io ho fatto un'esperienza professionale importante nel CFO, e quindi ho, se vogliamo, portato anche nel procurement un approccio di pianificazione e del valore della standardizzazione rinveniente dalla mia precedente esperienza. Innanzitutto vorrei dirvi cos'è il gruppo Unicredit oggi. Il gruppo Unicredit nasce da un processo di grande cambiamento culturale avviato nel 1993, ci sono state diverse acquisizioni importanti, soprattutto negli anni a cavallo tra il 1998 e il 2007, in particolare le vere acquisizioni fatte furono il gruppo HVB e Benco Austria, che ci diedero modo di essere presenti, come oggi siamo presenti in qua in tutti i paesi del centralista Europe, e poi l'acquisizione capitale per aumentare sempre di più la presenza sulla principale country dove operiamo. Ovviamente gli anni dal 2010 al 2013 sono stati anni difficili per il sistema bancario, e quindi sono stati anni di riorganizzazione, di capire dove essere, su quali mercati, su quali business, cosa che ancora di più avviene oggi, in quanto l'incertezza continua a essere uno degli elementi fondanti delle strategie dei gruppi finanziari. Oggi che cos'è il gruppo Unicredit? Il gruppo Unicredit, chiedo scusa per le spalle, il gruppo Unicredit è un gruppo di circa 150 mila persone, anche noi siamo stati veramente impattati da questa riduzione degli organici, ricordo nel 2007 l'anno di massima gloria eravamo 180 mila, quindi qualcosa come 30 mila, ci sono state anche delle vendite di alcuni banchi in alcuni paesi dell'est Europa nel frattempo, non soltanto quindi redundancy, ma anche riduzione di operations. Abbiamo qualcosa come circa 9 mila branches, siamo presenti in circa 17 countries in termini di banking operations, di contro siamo presenti nel nostro network commerciale su corporate operations in circa 50 countries, siamo uno dei principali player mondiali nell'asset management, con la nostra controllata Pioneer, e siamo leader di mercato in quasi tutti i paesi dell'est Europa, come anche in Italia, in Germania ed Austria. Cos'è il procurement nell'ambito del gruppo Unicredit? È un'organizzazione che oggi conta qualcosa come 300 persone, il 30% di queste persone sono in charge sulle categorie globali, nel gruppo Unicredit abbiamo un modello di specializzazione per categoria merceologica. È nell'area del chief operating officer, il procurement, in particolare tutte le attività di service al supporto del banking business, sono una società, una subsidiary del gruppo UBIS. Siamo presenti come procurement in circa 20 paesi, abbiamo una difficoltà linguistica da curare, che riguarda qualcosa come 18 lingue, gestiamo circa 16 currency, gestiamo su base annua qualcosa come 3 miliardi e 6 di spese operative e circa 600 milioni di euro di investimenti. Se vediamo lo split tra categorie globali e locali abbiamo qualcosa come il 65% dello spend nelle categorie globali e il 35% delle categorie locali. Globali vuol dire che c'è un presidio forte centralizzato da parte del central sourcing, locali c'è un modo di controllare le modalità di sourcing, ma è totalmente demandato al presidio locale di procurement. La differenza tra categorie globale e locale deriva principalmente dall'opportunità dell'economia di scala, dall'offerta da parte dei fornitori di un bene che potrebbe essere acquistato su larga scala e dai vincoli che derivano dalle specifiche tecniche del richiedente interno come anche dai regulators. Purtroppo molti dei beni che non andiamo a comprare risentono delle regolamentazioni che abbiamo nel sistema bancario. Le sinergie deliberate nell'anno 2013 sono qualcosa come 100 milioni di euro per circa il 9,6% e il 45% di queste sinergie sono calcolate su un prezzo storico, quindi non rispetto a benchmark di mercato. Quindi cost avoidance che si vede sul P&L. Uno dei paradigma del procurement del gruppo Unicredit è l'utilizzo della piattaforma di auction che abbiamo. Noi abbiamo una società nell'ambito del gruppo i Faber che ci dà tutta una serie di servizi nel procurement, uno dei quali è la disposizione del marketplace. Circa il 50% del negoziato noi lo gestiamo attraverso dei meccanismi di asta online. Qualcosa come un miliardo e mezzo su base a anni. Abbiamo una base fornitori di circa 12.000 società. Questi sono i risultati degli ultimi tre anni del procurement. In alto a sinistra abbiamo il transato sui Faber nel 2011, era circa 800 milioni di euro su base a anni al mio arrivo. Abbiamo significativamente implementato il modello di sourcing, il processo di sourcing che noi avevamo impensato e oggi abbiamo un miliardo e sei di transato. Ovviamente mi ha dato gioco facile la situazione economica e culturale. Ovviamente l'attenzione ai costi nel sistema bancario è un business degli ultimi anni. Fino al 2006-2007 eravamo in un mercato bullish e quindi la revenue era il focus del management. Oggi si è spostata molto di più sui costi. Ovviamente sulla revenue restano molte aspettative, ma lo scenario di riferimento è quello che è. Come dicevo, l'e auction rate è qualcosa come il 50%, le sinergie circa 100 milioni di euro nel 2013 pari al 9,6%. Le eccezioni le abbiamo ridotte al 7%. Cos'è un'eccezione? L'eccezione è una scelta a priori fatta dal cliente interno in termini di controparte che presta un servizio. Quindi diciamo che lascia ben poco spazio di manovra al procurement, perché l'ambizione nostra come procurement è quella di identificare il fornitore e negoziare i termini e le condizioni del contratto con il fornitore. Come abbiamo fatto queste cose? Il valore della standardizzazione. Uno dei concetti chiavi nel gruppo Unicredi è il valore della standardizzazione, perché è chiaro che quando siamo presenti in 20 paesi dobbiamo mettere a fattor comune diverse esperienze. Noi abbiamo portato avanti questo concetto di standardizzazione principalmente in quattro pillar e sono in termini di regulation, in termini di processi e modelli organizzativi, in termini di strumenti e in termini di approccio relazionale. Abbiamo standardizzato la relazione con i vendors, abbiamo standardizzato la strategia di alcune categorie, soprattutto quelle globali, e abbiamo standardizzato i processi di formazione a livello di gruppo. La parola standardizzata è un po' brutta, se vogliamo, no? Il concetto chiave, voglio passarvi, è abbiamo messo a fattor comune il meglio che avevamo nel gruppo su 20 country. Vado un po' veloce, forse? Io credo che siamo assolutamente sui tempi, anzi così magari stimoliamo, Io già sono uno veloce d'indole, questi mi mettono pressione sui tempi, non vorrei perdermi l'audience. La regolamentazione, abbiamo settato a livello di gruppo una policy che definisce i comportamenti per quanto riguarda i processi di procurement, una global procurement policy. Sostanzialmente abbiamo definito le categorie centrali, quali sono? Dei meccanismi di aggregazione dei volumi, parlava prima Mendola di processi di deman, di piani di acquisto, la termine che usate era? Master plan, noi lo chiamiamo deman plan, processi di consolidamento degli acquisti che si fanno su base annua. Abbiamo standardizzato le modalità di misurazione delle performance, parliamo la stessa lingua, le stesse metriche. Abbiamo ovviamente stressato i clienti interni sul concetto, sul valore della competizione, per noi banca è cruciale il modo in cui selezioniamo il fornitore, uno dei pillar è la trasparenza e la competition. Noi abbiamo qualcosa come 40 milioni di clienti, tutti i nostri fornitori sono spesso anche clienti, non è il requisito indispensabile, ma io tutte le volte che incontro un fornitore, ho gioco facile e dirgli hai perso la gara, mi dispiace, c'è qualcun altro che l'ha vinto. Perché il gioco relazione fornitore-cliente è molto debole, potete capire che il fornitore risentito abbandona la banca e non è il massimo per una banca di questi tempi. Abbiamo standardizzato il processo, come dicevo, una policy a livello di gruppo, abbiamo standardizzato il modello operativo di procurement e abbiamo identificato a livello globale le categorie locali e globali. Questo è il concetto della standardizzazione per le regulation. Ce ne vediamo invece per il processo dell'organizzazione. Questa è l'organizzazione che abbiamo in tutto il gruppo. Come dicevo abbiamo un forte presidio centrale sulle categorie globali, di contro abbiamo totalmente demandato ai procurement locali la gestione delle categorie locali. Sono tutte persone che riportano gerarchicamente a me, io in particolare presidio direttamente l'Italia, Germania ed Austria attraverso dei secondment, di contro tutte le persone che fanno procurement nel mondo della Polonia e della Sì, riportano delle persone che riportano a me o comunque il capo del procurement, ad esempio della Polonia, riporta direttamente a me. Quindi tutti i processi di compreview e di assessment delle performance delle persone sono centralizzate nella famiglia del procurement. Abbiamo quindi sostanzialmente standardizzato il modello organizzativo replicandolo nelle venti country dove siamo, con non poche difficoltà culturali che abbiamo ovviamente nel tempo affrontato. Questo è un processo che è durato comunque, se vogliamo il grande disegno del procurement è un processo che va lontano nel tempo nel gruppo Unicredit, nasce qualcosa come nel 2005-2006 ed è stato un continuum in questi anni. Abbiamo un unico, un processo che garantisce l'approvazione della negotiation strategy e della recommendation strategy, abbiamo un unico category 3, quindi quando andiamo a comprare uno specifico bene o servizio è comunque incanalato in una categoria unica a livello di gruppo. E questo ci dà modo di mettere a fattore comune practice ed abbiamo dei team dedicati per categorie, ripeto, abbiamo un processo di specializzazione del modello di sourcing per categorie. Abbiamo gli stessi strumenti, o meglio, vorremmo avere gli stessi strumenti in tutti i paesi dove siamo presenti, per alcuni li abbiamo fatti, per altri è un'ambizione. Abbiamo un sistema di reporting uguale in tutti e 20 paesi, quindi noi vediamo con le stesse metriche, nello stesso format, i risultati del procurement in 20 paesi. Abbiamo paesi che usano anche i caratteri cirilici, quindi non soltanto i caratteri che noi siamo abituati a usare. Abbiamo lo stesso workflow approvativo, come dicevo, il GSD Tool è una delle applicazioni di Faber, in 20 paesi. Abbiamo la stessa piattaforma di aste online in 20 paesi. Abbiamo altri strumenti per la gestione delle operations pre-recurement, quali il demand management, l'attività di collection dei needs dei vari clienti interni, come il contract management, la spend analysis e il vendor management, che sono presenti in alcuni paesi chiavi, ma l'ambizione è andare a coprire a tappeto tutte le country. Oggi abbiamo il demand management in 15 paesi, abbiamo lo stesso strumento di contract management in 9 paesi, lo strumento di spend analysis in 9 paesi, e lo strumento di vendor management in 3 paesi. I principali 3 paesi nell'ambito dell'economia del gruppo sono Italia, Germania e Austria. Oggi, se poi vediamo in un contesto dinamico, oggi abbiamo dei tassi di crescita in alcuni paesi che potrebbero nel tempo ridisegnare la geografia economica del gruppo Unicredit. Abbiamo standardizzato un modello di relazione, abbiamo identificato i principali 100 vendors del gruppo, siamo nell'ambito delle categorie globali ovviamente, abbiamo standardizzato il modello di relazione, 100 vendors del gruppo che rappresentano qualcosa come un miliardo e mezzo di negoziato su base anno, con riferimento alle categorie globali sono il 60%. Abbiamo standardizzato un modello di relazione, abbiamo chiesto ai vendors di identificare un'unica interfaccia su tutto il gruppo. Io quando parlo con Microsoft parlo con una persona e mi garantisce un'uniformità di comportamenti, di condizioni a livello di gruppo. Faccio un esempio che è un player globale per eccellenza, se non devo stare a rincorrere il signore Microsoft polacco, unguero, russo, austriaco o kazako. Abbiamo dei meeting periodici con questi global account manager, dove per noi è estremamente importante la fairness e la trasparenza nella relazione che loro hanno con noi e noi abbiamo anche con loro. E questo ci dà modo anche di gestire la disciplina nell'ambito del gruppo attraverso le varie country dove siamo presenti. Ovviamente abbiamo con loro una relazione di lungo termine, sono dei partner importanti del gruppo Unicredit, con cui abbiamo progetti che sono anche innovativi, se vogliamo, tutta una serie di operations che abbiamo nel campo di alcune attività. Abbiamo avviato con loro dei processi di outsourcing importanti, penso ai cedolini dei dipendenti, penso al pagamento delle fatture, anche all'order management, quale parte le tene di procurement, penso alla gestione della piattaforma informatica con IBM recentemente fatto. Il concetto chiave è standardizzazione, modello di relazione standard a livello di gruppo. Qui siamo in un modello di relazione standard molto centralizzata, perché sono dei vendors globali, dove la relazione è gestita centralmente. Abbiamo un modello di categoria, una strategia di categoria standard a livello di gruppo. Qui ci dice per alcuni beni che cosa è fatto, ad esempio per l'hardware peripheral, quindi tutto il mondo dei devices, laptop, stampanti e quant'altro, è gestito a livello di gruppo attraverso dei contratti su tutto il gruppo. Copriamo 20 country, noi facciamo degli accordi quadro non committed, con alcuni principali controparti selezionati attraverso dei meccanismi di Asta e oggi li mettiamo a disposizione per 20 country. Come anche media agency, plastic card, papers, info providers. Ci sono delle aspettative di ulteriore estensione del concetto della standardizzazione in ottica di categorie strategie, anche per altre categorie che qui non vediamo. Qual è il valore cruciale per noi qui? Innanzitutto ci dà modo di standardizzare le piattaforme informatiche, i modelli di relazione col cliente, ma soprattutto andiamo a cogliere dei fenomeni di economia di scala che sono importantissimi nell'economia del gruppo Unicredit. La dimensione degli acquisti, che ne facciamo su alcune di queste categorie, sono su hardware perifera noi abbiamo una spesa mediana di qualcosa di 100 milioni di euro, quindi capite bene, avere un unico agreement pluriennale con una controparte o due controparti ci dà modo di avere delle sinergie che fanno la differenza, anche per un conto economico come nostro. L'ultimo concetto della standardizzazione è stato quello della formazione. Noi abbiamo identificato delle best practice nel gruppo, abbiamo insurzato delle best practice dall'esterno, le assunzioni le facevamo in modo massivo sicuramente fino al 2008-2009, continuiamo ad assumere in modo molto mirato dei profili professionali che oggi sono mancanti nella nostra organizzazione, ovviamente le assunzioni sono comunque delle cose rare nell'economia bancaria purtroppo oggi, abbiamo messo a fattore comune queste practice attraverso dei processi di formazione con l'ausilio di primarie e controparti universitari e primarie società specializzate nella formazione. Questo ci ha dato modo di standardizzare il processo di sourcing, l'approccio al sourcing a livello del gruppo Unicredit. Io ho finito, spero di venire stato troppo veloce, ma di sicuro sono stato nei tempi. Assolutamente, infatti ringrazio Donatelli della velocità e della sintesi. Incomincerei, se posso, con una brevissima domanda. Proprio Donatelli, interessante questo aspetto, mi ha colpito un'affermazione che ha fatto anche il mondo bancario ha incominciato a focalizzarsi meno sulla top line e un po' di più anche sui costi. Ho detto una cosa diversa perché rischio di creare qualche problema con il mio amministratore delegato e quant'altro. Il focus sui costi, sulle revenue è estremo. Ma naturale. Purtroppo lo scenario di mercato non ci dà modo di incrementare le revenue come è avvenuto nel passato. Noi abbiamo avuto tassi di crescita dei ricavi a doppia cifra negli anni 2004, 5, 6, 7, 8. Noi abbiamo chiuso il 2007 con un utile netto di qualcosa come 7 miliardi di euro. Non so se voi siete pratici con i numeri, ma una manovra finanziaria di un paese come l'Italia era 10 miliardi di euro. Quindi per dirvi cos'è un utile netto. Ovviamente la pressione che c'è ancora sulle revenue, non è che sia venuta meno, però le aspettative sono inferiori rispetto al passato. Ha aumentato la pressione sui costi e sulla gestione del rischio. Oggi il focus nelle banche è fondamentalmente attenzione al capitale e attenzione ai costi. Da ragazzo a precisazione, quello che volevo appunto sottolineare è che c'è un focus su un'area che era tradizionalmente non così rilevante e tuttora rispetto a un'azienda industriale a questo peso. Quello che mi curiosiva era quanto questo avesse avuto peso nella standardizzazione che comunque Unicredit ha intrapreso a partire dal 2005, quindi parliamo di 15 anni di lavoro, di integrazione, di riduzione del modello organizzativo a livello europeo, che in realtà era una necessità nata dalle acquisizioni di società, di gruppi bancari nell'Europa dell'Est. Assolutamente. Domanda assolutamente mirata e puntuale. È chiaro che il contesto economico ci ha dato gioco facile. Tutte queste cose le abbiamo pensato negli ultimi dieci anni, ma il grosso di questa attività è stato fatto negli ultimi tre anni. Ma non perché io sono miglior dei miei predecessori, ma perché ho trovato un terreno fertile sul quale poter andare a incidere e cambiare dei comportamenti che appartenevano ad un mondo che non esisteva più. La scelta di un fornitore da parte dei clienti interno e lasciare poi la negoziazione del mero prezzo, delle mere condizioni a corredo, è una cosa che appartiene ad una situazione economico-finanziare che non è più quella che viviamo oggi. Quindi la centralità del procurement di quest'anni ha beneficiato, è stata una derivata positiva della situazione economica. Il difficile scenario ha chiamato in campo ancora di più un procurement forte in grado di implementare un processo a livello di gruppo. Assolutamente. Quindi riassumendo alcuni aspetti secondo me molto rilevanti, la standardizzazione che abbiamo ancora commentato, l'aspetto di quali potenzialità ci sono nell'integrazione del potenziale informativo in una rete che è una rete al tempo stesso interna alla nostra organizzazione ed esterna e gli aspetti di gestione invece per progetti. Questi sono tre temi estremamente interessanti, quindi magari nei minuti che ci separano dal caffè non sono certo che l'avete in questo momento in mente, magari c'è qualche curiosità o qualche punto d'osservazione. Prego. Ho una domanda, io sono Maurizio Bossi di Assama, ciao a tutti. Buongiorno. Ho una domanda, sostanzialmente due colleghi a Mendola e Donatelli, perché io credo una cosa, anche se vogliamo un po' viziato dai momenti di crisi che soprattutto viviamo nel nostro paese, però anche nel procurement oggi l'innovazione, la rottura è richiesta, è un tema che è stato affrontato. Chiedo a te la standardizzazione quanto invece è un limite al fatto invece di trovare opportunità e in contraposizione invece a lui è invece la gestione per project management, che significa una categoria, un progetto e metto in discussione tutto, non vuol dire un modello che invece mi sembra un po' più vicino a un modello che è un po' io in testa, che è invece di continuare a mettere in discussione in maniera profonda trovando elementi di rottura. Chi risponde per primo? Prego. Grazie per la domanda, mi da modo di precisare un concetto. Io ho detto durante la mia presentazione che il termine standardizzazione è un po' brutto, perché sembra quasi che lascia spazio alla fantasia, alla libertà creativa. Io volevo dire che la standardizzazione è un elemento di messa a fattore comune di alcune esperienze importanti fatte nel gruppo. Noi siamo 150 mila, noi abbiamo sicuramente delle eccellenze e noi vogliamo portare sul livello di eccellenza tutti i country dove siamo, tutti i paesi, tutte le banche che sono nell'ambito del gruppo. Quindi che cosa vuol dire standardizzazione? Vuol dire un mondo flessibile, aperto e condivisione dell'innovazione, assolutamente. Non vuole essere un mondo chiuso, vattato, è chiaro che rischieremo da qui a un paio di anni di essere fuori totalmente dal mondo. Vuol dire condivisione di best practice fondamentalmente, standardizzazione. Amendola? Così come nel modello che abbiamo implementato in BNL ovviamente non abbiamo dei battitori liberi, nel senso che c'è grande rigore nel rispetto delle milestone di processo, quindi in quel senso anche noi abbiamo standardizzato più gli aspetti del processo lasciando però una prossimità delle persone competenti all'interno del team degli acquisti rispetto ai fabbisogni del business e facendo questo in maniera continuativa. Questo forse è un po' un elemento di discontinuità che è stato anche molto apprezzato ovviamente dai clienti interni, perché prima erano abituati a vederti soltanto quando c'era da chiudere la trattativa. Oggi presentarsi a loro quando non c'è neanche il fabbisogno crea i presupposti per alimentare invece questa dialettica in modo molto più continuo nell'arco dell'anno e non soltanto quando c'è da chiudere il contratto. Altre osservazioni? Prego. Microfono in arrivo. Claudio Mantegazza, De Nora, volevo fare una domanda al dottor Donatelli. Questo processo di standardizzazione e centralizzazione che impatto ha avuto su quelle che erano tutte le 20 country in cui operate sulle filiali? Io sto attraversando un simile processo e sto affrontando una difficoltà soprattutto a portare a quelle che erano country esterne abituate a operare in autonomia, questo concetto di standardizzazione, condivisione di backspastic, eccetera. Ha avuto un impatto sulle persone tipo rimozione dei general manager locali, spostamenti di persone, eccetera? Noi come gruppo Unicredit non siamo famosi per essere dei colonizzatori, ci sono due stili manageriali. Assolutamente, io ho in mente il Santander, conosco bene alcune persone del Santander, loro comprano, vanno con gli spagnoli e mandano a casa. No, assolutamente, noi valorizziamo sempre le professionalità che ci sono, ovviamente se non sono meritevoli ci sono degli avvicendamenti, ma questo è come capita in tutte le società oggetto di un'acquisizione. Però non c'è il prerequisito della nazionalità. Io ieri ero a Vienna a presentare la nuova organizzazione dei miei colleghi austriaci e ho detto, io sono europeo, non esiste nella mia mente l'italiano, esiste l'europeo, noi vogliamo essere una banca europea, vorremmo essere domani una banca mondiale e quindi noi vorremmo cogliere le principali, le migliori practice e valorizzarle a livello del gruppo. Noi non esportiamo, noi mettiamo a fattore comune. Io ho trovato practice di valore in colleghi russi, in colleghi polacchi, in colleghi rumeni. È chiaro che se noi diamo l'impressione di imporre qualcosa ci perdiamo la motivazione delle persone. Noi dobbiamo sempre dare, noi diamo il senso di quello che facciamo come condivisione, valorizzando anche quello che troviamo a livello di gruppo. Noi abbiamo trovato realtà veramente interessanti in Polonia, in Russia, in Turchia, la Turchia nel sistema bancario è uno dei paesi di eccellenza in Europa, abbiamo valorizzato delle attività che erano in Turchia a livello di gruppo, perché per noi non è rilevante la nazionalità, è rilevante il valore espresso dalla singola persona, dalla singola attività. Con un chiarimento, questo trasferimento di Bexperty da un turco, diciamo, a un tedesco? In inglese. Non è una cosa poi così banale, penso, nel senso a fare accettare un modo di lavorare magari diverso. È una questione di comunicazione, se uno riesce a spiegare cosa sta facendo, il valore delle cose che mettendo a fattore comune ne deriva, è tutto più semplice. Ripeto, se tu trovi un interlocutore che dice così e così devi far domani, non lo farà mai. Se invece tu gli spieghi perché e qual è il valore dietro questa attività, e siccome lui è anche misurato sulla creazione di valore, bisogna creare una comunione di interessi. Il modello in positivo non ce l'abbiamo nel nostro DNA. Mi ha dato una risposta che noi non stiamo adottando, misurato sulla creazione di valore, perché infatti io ritengo fondamentale un aspetto che bisogna condividere l'obiettivo, però bisogna anche in qualche modo misurare e valorizzare quello che uno apporta poi a noi. Certo, certo. Grazie. Grazie a lei. Trovo molto interessante questa valorizzazione delle skills laddove si trovano, quindi posso intuire e in parte conosco che nella fase di sviluppo di Unicredit si sono trovati i best category laddove si trovavano, quindi in funzione anche magari della presenza di mercati locali in Polonia piuttosto che in Austria. Noi abbiamo dei global category manager, fino a ieri il global category manager in charge di tutto il paper value group era una persona della Polonia, abbiamo due global category manager forti sull'area IT, IT services, servizi professionali per lo sviluppo e la manutenzione del software e per quanto riguarda il software stesso che sono due colleghi tedeschi, non è un tema di nazionalità nel gruppo, è un tema di capacità. Di capacità, infatti è un tema che è venuto fuori anche molto dalla ricerca ed è stata anche una provocazione, quale formazione facciamo per far crescere le risorse. Ero curioso invece Bianchi, molto interessante la capacità di gestire una rete, una rete che ripeto interna e esterna, com'è che deve crescere la competenza di un CPO e di una sua organizzazione per muoversi in quel contesto, per fare utilizzare questa conoscenza? Direi che principalmente avere la mentalità a un approccio olistico, quindi non guardare e ragionare per silos, pensare alla condivisione delle informazioni e della conoscenza, interpretare la standardizzazione non come un elemento bloccante, frenante, ma come un elemento di execution, quindi si definisce la strategia, la strategia che può essere e deve essere probabilmente anche estremamente creativa e poi la standardizzazione porta l'execution anche magari nelle altre country, anche magari verso chi prima lavorava diversamente. La logica è quella poi che è un po' tendenzialmente lontana dalla mentalità sicuramente italiana, almeno come standard e anche un po' europea, quella della condivisione dell'informazione per migliorare la propria competitività. Io ho lavorato molti anni con le aziende americane, loro sono abituati a condividere qualunque elemento che invece noi tendenzialmente in Italia tendiamo a considerare l'informazione come un elemento di potere, quindi anche la piccola informazione non la condivido perché per me quello è potere. gli americani hanno un concetto completamente opposto per cui condividono qualunque cosa per tra virgolette anche essere nella possibilità di rubare informazioni, rubare best practice e quindi migliorarsi e incrementare anche, migliorare anche l'execution. Grazie a tutti.